In occasione del diciottesimo anniversario della strage di Nassiria e della tredicesima giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, al cimitero di Avola si è tenuta una cerimonia con la deposizione di un omaggio floreale in memoria del brigadiere Giuseppe Coletta, carabiniere di origine avolese, che cadde in quella tragica circostanza. La cerimonia hanno preso parte il comandante provinciale dei carabinieri, il sindaco di Avola, la sorella del caduto, una rappresentanza della locale sezione dell'ANC e il cappellano militare di Messina, che ha osservato un momento di raccoglimento e pregato per tutti i caduti delle missioni internazionali per la pace. Un altro breve momento di raccoglimento ha avuto luogo alla stazione dei carabinieri di Avola, a lui intitolata. Il brigadiere Coletta è ricordato come persona che si è sempre prodigata in favore dei più piccoli, sia con il proprio servizio quotidiano, sia facendosi promotore di iniziative a carattere privato, finalizzata a fornire un aiuto concreto a più bisognosi. Il 12 novembre del 2003 a Nassiria, una città dell'Iraq, un camion bomba esplose dentro il recinto della base maestrale dei carabinieri, a cui era demandato il controllo di quella zona del paese. La dinamica dell'attentato kamikaze è tristemente nota. Alle 10.40 un camion cisterna ha attraversato il ponte sull'Eufrate e girò a sinistra puntando verso il vecchio edificio ex sede della Camera di Commercio, dove era insediata la base del reggimento italiano MSU. A bordo del camion c'erano due persone, un autista e un uomo armato che si sporse verso l'esterno e cominciò a sparare contro il posto di guardia all'ingresso della base. Il camion sfondò la barra di metallo all'ingresso, mentre il carabiniero di guardia rispondeva al fuoco. Il camion terminò la soccorsa pochi metri dopo, scontrandosi con le strutture di protezione che delimitavano il parcheggio della base, esplodendo a circa 25 metri dalla palazzina. Alla fine della giornata il bilancio fu davvero tragico. Erano caduti 12 carabinieri, 5 soldati dell'esercito italiano, 2 civili italiani e 9 civili iracheni. Una ventina di italiani, 3 militari e civili, rimasero invece feriti. Grazie 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 Grazie